23 giugno 2013 in diretta dal park nord dello stadio uganeo su sherwood.it barbaluca guarda chi c'è oggi c'è il nostro fumettista preferito e non è solo e non è solo perché vicino a lui c'è giada buonasera giada buonasera buonasera giada e siamo all'interno di un contenitore che si chiama slam 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 x la rivoluzione degli ingranaggi è il titolo un po della giornata ma andiamo piuttosto allo spazio come andiamo per ordine che è quello che ci interessa di più al momento perché c'è giada e noi dobbiamo capire intanto chi è giada e perché sta ricoprendo e sta sedendo sopra la sedia notoriamente di ivan grozni buonasera giada buonasera allora spaziobianco.it intanto mi verrebbe da dire per identificarti lo rappresento fisicamente il sito rappresenti un sito internet in questo momento ci occupiamo di recensioni e critica fumettistica e abbiamo avviato grazie a claudio quest'anno appunto con sherwood comics questa collaborazione con il nostro sito saremo presenti appunto tutti gli incontri collaboreremo con delle recensioni e degli interventi delle interviste ai fumettisti e iniziamo con claudio appunto buonasera claudio buonasera tu sei stato stroncato per caso da questo sito che fa recensioni in qualche modo hanno fatto qualche recensione negativa sul tuo lavoro no non hanno letto l'ultimo libro non hanno letto l'ultimo libro già da poi chiariremo dossier tava ricordiamolo becco giallo dossier tava di claudio ho letto l'introduzione comunque le prime pagine non dicono tutti così non basta anche se è molto bella quella l'ho letta anch'io grazie grazie allora siamo preparatissimi potremmo fare una recensione dell'introduzione ma non faremo questo perché tu invece hai presentato delle domande che porterai a questi fumettisti giusto sì diciamo che vorrei iniziare prima di parlare magari appunto di dossier tav se abbiamo tempo poi lo faremo in seguito essendo appunto l'avviamento di questa collaborazione con lo spazio bianco e la prima giornata di sherwood comics volevo chiedere appunto a claudio di introdurre un po' che cosa rappresenta questo festival crossover aspetta ma sei già andata alla domanda tu ma la domanda non si chiama domanda fumettologica la domanda si chiama in realtà il nome è stato discusso a lungo claudio la chiama ancora domanda fumettologica all'interno del forum del sito si è deciso di chiamarla ma abbiamo lo stacchetto abbiamo lo stacchetto per ogni tua domanda allora facciamo partire lo stacchetto barbaluca dia alla regia di mandare lo stacchetto della domanda fumettologica stacchetto io ti ho fatto anche il montaggino della domanda fumettologica fai sta domanda a claudio c'è scritto proprio sotto la domanda fumettologica e non l'hai visto è andato in onda ah ma tu hai lo schermo lì sotto ma Ivan lo sapeva però ma non ci interessa non nominare non vogliamo sentire quel nome domanda fumettologica la domanda fumettologica è questa dato che appunto è il primo degli interventi e degli incontri di sherwood comics volevo chiederti in che modo Slamix potrebbe essere identificato come un'apertura anche dell'indirizzo che vorresti dare all'idea di fumetto all'interno appunto dello sherwood insomma che cosa significa per te? beh vabbè caratteristica di sherwood comics sin dalla nascita è stata quella di portare il fumetto in ambienti non frequentati di solito dal fumetto lo abbiamo fatto con la musica prevalentemente lo faremo anche durante questa micro rassegna di quattro appuntamenti all'interno dello Sherwood Festival e Slamix come manifestazione nata a Milano da Agenzia X al Cox 18 se non sbaglio di Milano è un'iniziativa che rientra particolarmente in questo spirito di Slamix nasce portando la letteratura nei festival rock in un certo senso cioè così è presentata anche la presenza di Slamix qui questa sera allo Sherwood Festival portandola in un modo appunto originale in cui la letteratura si confronta con la musica e per la prima volta per Slamix con anche il fumetto per cui ho ritenuto che Slamix rientrasse particolarmente in questo animo di nascita di Sherwood Comics del mischiare del mettere il fumetto a disposizione di altro infatti secondo me è sia interessante appunto l'idea del confronto del fumetto che già di per sé nasce come appunto incontro di linguaggi quello visivo e quello delle parole e aggiungendo anche la musica che è appunto il tema principale dello Sherwood diciamo ma un'altra cosa che secondo me era molto interessante sarebbe bello indagare con te è appunto il titolo di Slamix di quest'anno che è la rivoluzione degli ingranaggi e l'idea che qui si cerchi di far incontrare quelli che sono i linguaggi e le forze critiche della società appunto così come si presenta anche l'incontro di Slamix quindi volevo chiederti in che modo da fumettista tu vedi il linguaggio del fumetto come particolarmente rappresentativo di queste forze di questi linguaggi critici all'interno della società ecco io non so devo dire se il fumetto in sé come entità sia rappresentativo della critica del pensiero critico so per certo però che il fumetto e per me che li faccio chiaramente è un oggetto principale di ricerca che il fumetto si presta molto bene ad essere un linguaggio adatto e che debba uscire un po' anche questa è la necessità che sento anche debba uscire anche un po' dal suo ghetto spesso dal ghetto fumetto e chiaramente come autore penso che il fumetto sia un linguaggio eccezionale ruberò una citazione d'arte Spiegelman che dice che il fumetto è il linguaggio che si avvicina di più al modo in cui pensiamo nel senso che quando noi ricordiamo cose, quando pensiamo cose non pensiamo per paragrafi ben impaginati di testo non pensiamo per immagini teatrali o cinematografiche ma pensiamo con il nostro pensiero si evolve come un'esplosione di immagini e testo disordinati e il fumetto è secondo me la cosa più simile a questo modo e in sé questo tipo di rapporto crea una disponibilità maggiore è una complicità con il lettore che quantomeno io sia come autore che come lettore non sento in altre parti quindi in questo ambito il fumetto comunque anche quando parla della nostra realtà e non si collega invece all'idea del fumetto che sia come qualcosa appunto di surreale aggiunge diciamo quest'immediatezza del linguaggio che può essere percepito da tutti e quindi appunto fa sì che sia in questo senso forse un linguaggio che si presta anche alla critica insomma come magari può essere può emergere anche dal tuo ultimo libro dossier tab che io colpevolmente non ho ancora letto completamente è passata la marchetta e aiuto sono domande difficili comunque veramente veramente infatti mi sono già perso puoi dire quello che vuoi rispondi a caso rispondi a caso la mia idea era in che modo per te il fumetto diventa subito qualcosa che parla della realtà e parla della realtà in modo critico informando diciamo poi l'opinione se la fa uno però diciamo che il tuo dossier come tu stesso dici nell'introduzione che noi abbiamo letto io sono quasi a memoria almeno quella esatto nell'introduzione tu dici che questo dossier dovrebbe aiutare a farsi un'idea allora come dici tu se è un linguaggio così immediato forse ti aiuta a farti un'idea più velocemente insomma in che modo hai sviluppato c'è una caratteristica che spesso io vedo che anche agli autori non entusiasma molto una caratteristica che però io ritengo molto importante del fumetto nel senso che è un linguaggio che molto più di altri si presta ad essere divulgativo io non mi vergogno di dire che i miei libri a tema diciamo come possono essere Porto Marghera o dossier TAV possono essere degli strumenti per divulgare informazioni Sara Pavane è tra noi perfetto per divulgare informazioni è uno strumento forte in questo senso l'esempio che faccio sempre è su Porto Marghera che per sapere la storia uno dovrebbe leggere libri di 400 pagine di decreti, leggi eccetera con il mio libretto sulla questione in un arco di tempo di 45 minuti invece è possibile farsi un'idea senza diventare l'esperto chiaramente però è possibile farsi un'idea precisa dell'argomento per me questa appunto pur essendo una cosa che magari viene sottovalutata perché magari va a discapito della narrazione l'avventura tanti stilemi tipici del fumetto però secondo me è una caratteristica ancora poco usata e che soprattutto in virtù del fare controinformazione di comunque legarsi anche a fonti che non sono prettamente fumettistiche però anche appunto la controinformazione in sé come concetto il fumetto si presta molto più di altro insomma le tue domande difficilissime sono finite non oso immaginare cosa chiederai agli altri Claudio è sudato cioè non ce la fa più deve anche disegnare ma penso che tornerai a casa adesso io penso corsa di corsa di corsa bene Claudio che lì abbandona non solo lo stand della web tv ma proprio tutta l'edizione di Slemix noi lo ringraziamo diamo la linea alla regia per un contributo video e poi torniamo perché tu devi aggredire qualche altro fumettista grazie Claudio a dopo ciao a tutti ciao Claudio